Lo aveva chiesto il mister e i ragazzi lo hanno ripagato proprio con una partita così come forse lui se la immaginava, è vero? Sono stati bravi, soprattutto a non sottovalutare l'inizio della gara, a non dare coraggio all'avversario che si è visto i primi minuti, hanno tentato il tutto per tutto, ci hanno anche un po' messo in difficoltà, fino al 2-0 nostro c'è stata partita, nel calcio non bisogna mai sottovalutare niente e soprattutto bisogna crescere come mentalità, i ragazzi sono entrati in campo come gli avevo chiesto e mi hanno fatto contento da tutti i punti di vista. Segna Kovacic, segna Osvaldo alla prima a San Siro, fa doppietta ai cardi, minuti nelle gambe di Osvaldo, un po' di lavoro insieme ai cardi, ci sono tante cose positive che si è riuscito a gestire anche nei cambi nel corso della sera. Sì, Osvaldo comunque i gol in carriera l'ha già dimostrato di averli fatti, a me oggi sono stato veramente contento che Matteo abbia fatto gol, perché è un anno che ci lavoriamo sulla testa, sulla mentalità, lavora sul tiro in porta, addirittura ha fatto gol anche con un tiro, ha fatto il primo gol perché è entrato in area, di solito non entrava, è un ragazzo giovanissimo, con le dotiche ha, doveva essere come sta facendo, come ha fatto ad esempio in questa partita, determinante come è stato a volte in precedenza, l'anno scorso con la Lazio, negli assist, ma anche nell'andare e concretizzare lui stesso e allora diventerà il campione che tutti noi speriamo che diventi. Adesso inizia il campionato, centrato l'obiettivo siamo in Europa League, fa il giro, domani il sorteggio, fa il giro, si cerca magari solo, auspichi solo di avere trasferte non particolarmente disagevoli, poi il valore dell'avversario e le partite sono tutte da affrontare con il giusto piglio, però magari trasferte tipo quelle dell'Islanda, tipo all'Inter era capitato di andare in Azerbaijan, cioè 4-5 euro di volo, magari quello che vorresti evitare. Sì, speriamo che appunto fare meno viaggi perché giocare giovedì è la domenica, ora speriamo anche che la Lega ci metta in condizione di recuperare un giorno o più, magari giocando di lunedì se dovessero essere trasferte così lunghe, però ora nel mio pensiero dopo domattina di far sì che i ragazzi non siano troppo così contenti di questo passaggio del turno, di queste due belle partite che hanno fatto, perché fra due giorni abbiamo una partita terribile, contro una squadra che gioca molto bene come il Torino e quindi bisogna subito concentrarsi sulla prossima senza guardare tanto lontano. Contento che il Toro, anche lui in Europa League, arriveranno comunque con soddisfazione? No, sono contento che almeno dato che in Champions abbiamo solo due squadre nei gironi, che anche per il ranking italiano, insomma ora siamo tante squadre almeno in Europa League, mi fa piacere che con una squadra importante, plasonata come il Torino, dopo tanti anni, mi sembra 21 anni, tantissimi anni, è ritornata in Europa, questo fa bene al calcio italiano e sono contentissimo.